Allora, video veloce sui pronostici alla prima giornata di Serie A, Milan-Udinese ragazzi non ho fisso perché non è una campione d'Europa l'Udinese, non ho buona squadra ma stansi io non ce l'assicuro. Sampdoria-Atalanta un bel X2 perché l'Atalanta è vero ha fatto un mercato disastroso ma anche la Sampdoria e poi inizio campionato un po' difficile per tutti X2. Lecce-Inter 2 fisso, Monza-Torino X2, Lazio-Bologna 1 over 2 e mezzo, Gentina-Crimonese 1 fisso, Salernita-Naroma-Gol, Spezia-Empoli un bell'X e la Sverona-Napoli un X2, un Juve-Sassuolo, Gol. Fatemila sapere la vostra questione di commenti, Youtube sta sfagiolando e spero che questo video vada fino in fondo. Qui da Danina Razor è tutto, fatemi sapere i vostri pronostici qua sotto. Non parlo più di tanto perché appunto ho paura di buttare tempo inutile. Questi sono i miei pronostici. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete un like se vi va, può essere in descrizione dai link incriminati e basta. Alla prossima con un nuovo video.